In questa puntata parliamo di affondo con peso aggiunto Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari. Io sono Polina Ferrari, andiamo in palestra e vediamo qualche esercizio. Oggi vediamo l'affondo. Impugna due manubri o qualsiasi peso con una o due mani ed esegui un passo in avanti con il piede destro. Ora concentrati sulla tua gamba sinistra, piegola verso il basso fino a formare un angolo retto. Fermati qualche centimetro prima di toccare il pavimento con il ginocchio. Ricorda che la gamba da piegare è la sinistra, la gamba destra si fletta di conseguenza non il contrario. Ora ritorna nella posizione iniziale spingendo con il piede anteriore, cioè il destro. Ripeti l'esercizio più volte. Per coinvolgere maggiormente i glutei concentra la spinta sul tallone del piede anteriore e tieni il busto leggermente inclinato all'indietro. È molto importante che durante il movimento il ginocchio del piede anteriore non supere l'alluce.